. Oggi Harry e Meghan coronano la loro favola, tutto sulle nozze reali. Oggi, 19 maggio 2018, si terrà il matrimonio dellanno. Ci riferiamo ovviamente alle nozze tra il principe Harry e Meghan Markle. La cerimonia inizierà alle ore 12 inglesi, ore 13 italiane, nella cappella DST. George al castello di Windsor. I dettagli della cerimonia L'arrivo degli ospiti inizierà alle 9 del fuso orario inglese nel parco di Windsor. . Ci saranno anche 1200 invitati tra le persone del popolo appartenenti ad associazioni di beneficenza. . Lavoratori del castello o per la casa reale. A loro l'onore di assistere all'ingresso dei due sposi. . Seguirà l'entrata in chiesa per gli invitati ad assistere alla cerimonia. . Alle 11.20 inglesi, ci sarà l'ingresso della famiglia reale. . Ufficializzata l'assenza del padre di Meghan, è certo che sarà accompagnata all'altare dal principe Carlo e non sceglierà di percorrere la navata da sola. . . In un gesto che sarebbe considerato coraggioso e moderno. . La futura sposa sarà preceduta da dieci paggi, fra cui i figli di William e Kate. . . A mezzogiorno comincerà la cerimonia che verrà celebrata dal reverendo David Connor. . Una delle sorelle di Lady Diana, sia di Harry, farà un intervento durante la messa. . Alle 13 finita la messa e dopo aver salutato i presenti, i neo sposi faranno una parata tradizionale a bordo della carrozza reale. . . Il mezzo come nelle favole più romantiche verrà guidato da quattro splendidi stalloni grigi. . La sfilata durerà una mezzoretta. . Poi gli sposi e 600 invitati si recheranno al pranzo al castello preparato dalla regina Elisabetta. . . . . Il fotografo ufficiale sarà Alexi Lubomirsky. . Alle 19, la cena organizzata dal principe Carlo per 200 intimi al castello seicentesco Frogmore House, nei dintorni di Windsor. . . I costi. . . Il matrimonio dellanno sarà trasmesso in Mondovisione. . 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 Grazie a tutti.